Posizioni invariate nella terza categoria, segnatamente nel girone C, dove vincono le tre squadre di testa. La marca che va ad espugnare Giri Falco per 1-0, l'Escalibur che vince 2-0 l'incontro casalingo contro il Klinga e il Mach3 che batte 3-1 il cortare. Quindi nulla di cambiato per quanto riguarda la testa della classifica. Per quanto riguarda le altre partite, l'Atletico Ferroleto va a vincere nell'anticipo di sabato 2-0 sul Belvedere. Quindi un Belvedere che incappa nella seconda sconfitta consecutiva e quindi si vede allontanare in classifica. Due domeniche fa era a portata di primo posto, adesso si trova al quarto posto a ben sei punti di distacco dal capolista marca. Abbiamo detto delle squadre tutte battute, Giri Falco, Curinga e Cortale. Da segnalare invece alla vittoria del Maite sulla Serrastretta, un Serrastretta 2-1 il risultato finale. Un Serrastretta che rimane ultima in classifica insieme al Longobardi, un Longobardi che viene sconfitto a conflitto per 2-0.